Il mare oggi è proprio Un'ora e un'ora Ma qui nessuno ti ha perdonata Quando da casa te ne sei andata Quanti progetti in mente Puoi finire a guardare il cielo Amando Sognando Crescendo Con Enzo titolare del negozio Benetton di Torre Annunziata Innanzitutto in che condizioni è attualmente il commercio torrise? Il commercio torrese ha bisogno sicuramente di elementi di innovazione e di condizioni migliori relativamente alla qualità urbana. Una e fra tutte avremmo bisogno di parcheggi, quello è fondamentale. Proprio nell'ottica di questo discorso che cosa ha organizzato Benetton in prossimità delle festività natalizie? Noi abbiamo un'iniziativa che parte il 27 novembre e si chiude il 27 novembre stesso che si chiama Black Friday. Da un certo orario, dalle 18 alle 22 avremo tutta la collezione a sconto col 30%. In questo vasto showroom qual è il prodotto che potrebbe rappresentare un regalo originale per il Natale? Un caldo maione di lana. Tuo padre non ti ha mai parlato e questo forse l'hai odiato. I grandi hanno sempre da farlo e adesso cerchi un figlio per poterlo. Lo staffa della Benetton di Torre Annunziata vi augura un buon Natale, vi aspetta in corso Umberto I, numero civico 10. Buon Natale! Ciao!